Il popolo napoletano Per loro sicuramente potrebbe essere un tradimento perché loro sono fatti così, però bisogna vedere quello che succederà, non sappiamo quello che succederà. Stando a quanto riporta l'edizione online delle Parisienne, Doha sarebbero andati in scena degli incontri fra Nasser Al-Khelaifi, presidente del Fondo Catariote, e Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, che sarebbe pronto a cedere il club dopo la mancata promozione in Premier League. Un affare che se anche andasse in porto non escluderebbe però l'interesse per la Roma di James Pallotta. Da martedì 4 giugno saranno in vendita i nuovi abbonamenti della Roma, mentre vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto fin dal 16 giugno. Tramite il suo sito ufficiale il club ha comunicato le modalità e i prezzi per poter assistere all'Olimpico. C'è una novità. Viene introdotto il nuovo abbonamento digitale e nasce un'app interamente dedicata alla gestione dell'abbonamento direttamente dallo smartphone. L'applicazione inoltre permette di usufruire di ulteriori servizi, come il cambio utilizzatore per 5 partite o cambiare il proprio posto prima dell'inizio del campionato. Continuano le ipotesi sull'identità del prossimo allenatore della Roma. Il più quotato per ora sembra essere Paolo Fonseca, ma tra i nomi è comparso anche quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo ha però smentito le voci che lo vedono sempre più vicino alla Roma. Ha infatti affermato C'è poco o niente per ora. Se dovesse arrivare un'offerta concreta ne parlerò con la società. Al Sassuolo sto benissimo. Contatti con la Roma? Tengo per me queste informazioni. Quello che leggo va oltre la verità. Domani non so cosa accadrà. Ad oggi è così.